Il rientro forse dovrà slittare ancora quello di Gentiletti, magari non per il Torino però a volte ci scordiamo, non qui a Neto dell'Aquila perché l'abbiamo sempre ricordato come difensore però ci scordiamo che nella rosa dei difensori c'è anche un giocatore così importante come Gentiletti quindi soddisfatto da prestazioni di Marizio, spero che veramente continui questa sua crescita Bene, passiamo a Stefan Radu, pure lui comunque premette già il voto per me, un 7 per Radu rispetto alle prestazioni un po' di sotto della media delle precedenti partite ieri mi ha convinto, lottato, passaggi, ha fatto tutto bene si è beccato pure una bella gomitata di Zazza che è uno di quei giocatori che nella partita precedente avevamo Sorrentino che si era eretto a Palatino anti Lazio ieri Zazza evidentemente, non so per quale strano motivo, voleva abbattere tutti i giocatori da Lazio Ma anche Berardi ci ha messo del suo Sì, però Zazza, insomma la comitata a Radu non era secondo me così involontaria rivedendo bene le immagini e poi il pallaccio che ha fatto su Marchetti pure è stato graziato dall'arbitro comunque ritornando a noi, Radu pure per me è 7 Sì, Radu 7, un miglioramento rispetto alla partita con il Palermo ha spinto tanto ieri il difensore Romeno, ha dato molto contributo alla manovra offensiva della Lazio e comunque mi è piaciuto molto e la cosa più importante è che anche ieri, magari a differenza della partita con il Palermo è stato concentrato dal primo all'ultimo inuto senza il minimo errore puntuale e preciso come sempre, sono contento per Stefano Bene, passiamo a Cataldi Sì, sulla partita di ieri la conferma di quello che almeno io speravo a inizio stagione è di vedere Cataldi titolare nella Lazio, nel centrocampo della Lazio e si sta confermando perché non ha patito minimamente il salto tra la primavera e una serie superiore dopo l'anno passato a Crotone e poi il passaggio nella Serie A non ha perso tutte le sue caratteristiche che avevamo visto moltissime volte nella primavera e sa fare tutto, fa la mezzale, regista, passa, tira ieri è andato vicino al gol con un tiro molto bello è un giocatore su cui la Lazio deve fare affidamento e il futuro della Lazio comunque 7 pure per lui Sì, ieri ha avuto un avvio un pochino più difficile delle altre volte Danilo però comunque anche con la prestazione di ieri ha confermato la sua personalità il suo carisma a mezzo al campo comunque è un giocatore che non sembrerebbe essere alla prima stagione in Serie A piace perché comunque è elegante, preciso, passaggi di prima mai banale in qualsiasi situazione forse l'unico appunto è quel passaggio filtrante per Mauri dove lui l'ha interpretata in maniera diversa però è veramente bello vedere un centrocampista così con la maglia di Lazio specie se poi è un prodotto del vivaio felicissimo per Cataldi spero anche lui che rimanga nell'11 titolare per tante e tante altre partite il mio voto è un 7, forse anche 7,5 quindi un 7,5 per Cataldi da parte di Marco passiamo dopo Cataldi a Luca Sbiglia Luca Sbiglia è il giocatore, lo notavo ieri perché ormai penso c'è stata la partita col Genova poi le tre vittorie quindi è la quarta partita consecutiva hanno preso spunto tutti da Gasperini evidentemente gli allenatori avversari è quello più penalizzato dal modulo della Lazio per assurdo perché ormai tutti gli allenatori che giocano contro la Lazio mettono giocatori fissi addosso a Biglia fortunatamente lui ha un gran talento e riesce a divincolarsi con la sua tecnica e con la sua classe e pure lui ieri mi è piaciuto quindi è un 7 pure per lui io ora sembrerò esagerato però il primo tempo di Luca Sbiglia secondo me è stato quasi l'emblema di questa squadra che se sta bene veramente fa la differenza il primo tempo di Biglia non l'ho visto sbagliare nulla puntuale e preciso in ogni intervento come hai detto te ormai anche gli avversari imparano a conoscere il centrocampista argentino e ne prendono le giuste misure però ieri magari a differenza di tante altre volte abbiamo visto un Biglia magari molto più dinamico molto più movimento che cercasse la posizione giusta nel momento giusto quindi mai statico e mai marcabile a questo punto quindi io ieri veramente ho notato la differenza tra Biglia e tutti gli altri centrocampisti e tutti gli altri registri che abbiamo avuto negli ultimi anni il mio voto per Biglia è 8 8 per Biglia caro Marco qua abbiamo un nostro collaboratore che ci critica perché dice veloci con queste pagelle già l'ho letto già l'ho letto però la gente così la perdete ci siamo cresciuti una serpe in seno Andrea Sberna già ci tre trasmissioni già ci sta condannando in maniera ignobile così secondo te lo sta facendo perché ha fretta di intervenire o perché veramente voleva darci un suo consiglio dunque perché voleva ha fretta di intervenire sicuramente perché di solito lui vabbè adesso diciamo una cosa però la sappiamo è vera lui di solito va a letto alle 8 e mezza 9 cena alle 7 quindi già che sta ai 10 e 10 deve aspettare l'intervento un po' si innervosisce tipo i bambini piccoli allora dobbiamo avere pazienza pure con lui guarda Andrea i numeri ti stanno smettendo perché qui stiamo avendo in diretta un dato di ascolti quasi quasi simile a quello della passata puntata quindi vuol dire Andrea eh allora riniziamo da capo Filippo Marchetti allora chi siamo arrivati dopo questa divagazione abbiamo detto Biglia parolo Marco Parolo 7 pure per lui perché è un giocatore che è indispensabile per il gioco della Lazio peccato il cartellino giallo che ha preso perché con la diffida non potrà esserci con la Fiorentina però è l'unico giocatore che non ha mai saltato nemmeno una partita quindi un turno di riposo per lui dopo la partita è naturalmente di mercoledì col Napoli trova sempre il gol è un centrocampista che segna molto che dire grande prestazione pure per lui in un 7 parolo 7 e mezzo io veramente questo giocatore mi entusiasma è veramente guarda ieri l'unica nota dolente è stata appunto la sua munizione perché una partita così importante come quella contro la Fiorentina guarda io ero disposto a rinunciare a qualsiasi altro giocatore ma mai a Marco Parolo perché comunque ormai è entrato totalmente bene nel disegno tattico di mister Pioli che è veramente il tassello fondamentale questa squadra non ne può fare a meno puntuale preciso come sempre si trova sempre nel momento giusto a dettare il passaggio giusto gli do 7 e mezzo perché oltretutto ha continuato a trovare il gol e dopo Stefano Mani il centrocampista più prolifero di questa squadra sono sono veramente contento dell'acquisto di Parolo dell'acquisto di Parolo bene Felipe Anderson è il protagonista della partita io te l'avevo detto basta aspetta 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 che questo esploderà sarà un fenomeno un giocatore che Marco ci ha sempre invitato ad attendere perché era convinto ha sempre un giocatore su cui Marco ha sempre puntato questo posso testimoniarlo vedendolo sempre allo stadio quindi è sicuramente vero quello che dici nella gara di ieri oltre al gol che è veramente bello ho fatto pure molti assist perché non solo quelli sui gol considera pure quelli che ha fallito close i due gol che dire ormai abbiamo detto molte cose su Anderson inutile ripetersi sulla partita di ieri per me è 8 io mi sbilancierei darei anche un 8 e mezzo è un giocatore veramente fantastico e soprattutto particolare perché ora non so se tu sarai d'accordo con me però mentre vedevamo comunque questa questa battaglia tra che età e consigli nella ricerca disperata di questo quando vedevamo comunque nel massimo della della prestazione che età vedevamo un attimo un po' un Felipe Anderson diciamo in difficoltà un po' spaisato un po' sottotono e stavamo aspettando la sua giocata stavamo aspettando che entrasse in scena questo fenomeno brasiliano perché avremmo se il salto capito che tramite lui la Lazio avrebbe potuto tranquillamente vincere la partita è arrivato forse nel momento più inaspettato mentre ancora lui stava cercando la posizione quando ancora lo vedevamo svariare da destra a sinistra fino a passare centralmente però ieri comunque ha consacrato il fenomeno che dopo l'infortunio l'ha tenuto fuori per quasi un mese solito col sublime solite giocate con una naturalezza con una tranquillità con una facilità che veramente a volte sono disarmanti e la cosa più bella lo spettacolo più bello è vederlo insieme a un Keta anche lui a tratti straripante ieri veramente a momenti mi veniva da sorridere e dire ragazzi abbiamo anche un certo Antonio Candreva in panchina quindi sono felicissimo per Felipe Anderson e spero che insieme a Keta restino il futuro di questa squadra Felipe Anderson 8 e mezzo 8 e mezzo molto bene allora Stefano Mauri quello magari un po' più in ombra magari rispetto ai propri compagni è partito come dicono quelli bravi finto 9 poi dopo è stato spostato a centrocampo in regia per prendere più palloni rispetto alle altre partite meno spunti comunque rimango convinto anche se la presenza di ieri la prestazione di ieri non è stata di livello come i suoi compagni per me rimane una presenza che deve essere sempre fissa nella Lazio un giocatore che non deve mai mancare 6 e mezzo sono d'accordo con te però io a Stefano Mauri non riesco ad andare sotto al 7 per un semplice motivo perché anche ieri comunque in tutte le situazioni in tutte le azioni dove la Lazio era più pericolosa o c'era l'ultimo passaggio di Stefano Mauri o c'era il movimento di Stefano Mauri ad aprire gli spazi i varchi per gli inserimenti di Chetà e di Felipe Anders oppure c'era comunque un suo movimento sul secondo palo o un suo inserimento quindi comunque rimane sempre il giocatore più determinante di questa squadra bene Miroslav Klose è entrato al ventesimo del secondo tempo quindi per lui 25 minuti di gioco più i 4 di recupero quindi ha giocato 29 minuti 29 minuti un gol realizzato due mancati che dire nelle immagini di ieri è stato interessante vedere la persona che con la cartellina dà le indicazioni ai giocatori quando entrano credo Marco sia l'allenatore in seconda quello con la cartellina Lomino con la cartellina che diceva a Klose cosa fare e quello l'ho trovato veramente divertente perché a Miroslav Klose che sta per entrare in campo gli devi dire con la cartellina guarda te mettiti là o vai a marcare sul calcio d'angolo e Klose stava là e se lo guardavo e dì guarda che me tocca sentì io che so Miroslav Klose ma che gli devi dire a Miroslav Klose nella cartellina non ci devi scrivere niente gli devi mettere la guida rossa dice attento che ti sporti i scarpini entri in campo e basta a Klose non gli devi dire niente vabbè poi certo tu mi dirai i due gol che ha mancato adesso magari mi stavi mi stavi facendo notare però si è ben notato quando ha segnato Miroslav Klose era più arrabbiato di noi perché faceva quello gesto a terza come dì dopo tre una gli ho segnata era incalzatissimo e poi è arrivato Parolo gli ha fatto va bene così va bene così proprio quindi Miroslav Klose è immenso come sempre quindi per quei 29 minuti e per il gol per me è sette sì alla fine sette se lo merita e se lo merita perché comunque mette sempre il suo il suo timbro alla partita in quel momento serviva il suo contributo e